Benvenuti nel mondo degli orologi Alfred Rochard. Alfred Rochard è stato uno dei più grandi orologiai del ventesimo secolo, noto per la sua passione e la sua inventiva nel campo dell'orologeria. Nato in Svizzera, Rochard iniziò la sua carriera come apprendista presso la fabbrica di orologi Zenit, dove apprese le tecniche e i segreti dell'arte orologera. Dopo aver lavorato per diversi anni come orologiaio indipendente, Rochard decise di fondare la propria azienda nel 1941, a cui diede il nome di Harold Alfred Rochard & Philz, in onore dei suoi due figli, Armand e Roland, che lo affiancarono nella gestione dell'impresa. Rochard si dedicò alla produzione di orologi di alta qualità, basati su movimenti meccanici di precisione, certificati dall'Osservatorio Ufficiale Svizzero. Il marchio Harold Alfred Rochard & Philz ha continuato a crescere e a svilupparsi nel tempo, mantenendo sempre fede alla visione e alla filosofia del suo fondatore. Gli orologi Harold Alfred Rochard & Philz si distinguono per il loro design elegante e raffinato, che esalta la bellezza e la complessità dei movimenti. Il quadrante degli orologi Harold Alfred Rochard & Philz è caratterizzato dalla presenza della firma dell'azienda, che ne sottolinea l'importanza e la qualità. In sintesi, Harold Alfred Rochard & Philz è un'azienda che rappresenta l'eccellenza nel settore orologero svizzero, grazie alla maestria artigianale, alla qualità dei materiali e alla precisione dei movimenti. Scegliere un orologio Harold Alfred Rochard & Philz significa entrare a far parte di una storia di passione e innovazione, dove ogni dettaglio è curato con la massima attenzione per creare un'emozione senza precedenti. Grazie a tutti.